Anno 2017. Altamura. Il laboratorio urbano Portalba, nato e inaugurato nel 2011 per dare spazio alla creatività dei giovani altamurani, è ad oggi ancora chiuso. Una parte della struttura è impraticabile, mentre in alcuni spazi, la cui gestione è affidata alla parrocchia Sant'Agostino, vengono svolte alcune attività. Abbiamo cercato di ricostruirne la vicenda.